Mi hanno inoltrato alcune email false ricevute dall'Agenzia delle Entrate. Mandato parlamentare di corrispondenza sulla raccolta tributaria. Il mittente è Agenzia delle Entrate. Andando a premerci si vede un indirizzo che è più falso di una banconota da 3 euro. Agenzia delle Entrate, chiocciola, frisca, peru.com Se il messaggio arrivasse davvero da loro, l'indirizzo sarebbe qualcosa, chiocciola, agenzieentrate.gov.it C'era anche un allegato, .zip. I file .zip sono dei contenitori. Possono contenere dei file .exe. Se fai doppio clic su un file .exe, fai partire un programma. E i virus sono programmi come tutti gli altri. Non fare mai doppio clic su un file .exe ricevuto via post elettronica. E neanche sui file .zip. L'ho scaricato e scompattato sul mio Mac Mini. E non contenevo un file .exe, ma un file .url. Se ci fai doppio clic sopra, si aprirà una pagina web. Che in questo caso specifico contiene un file .exe. Sicuramente un virus. Danse. Grazie a tutti.